sei solo per la vittima fai pena detto da un anonimo dimmi chi sei eh non si dice guarda che ho capito chi sei vieni qua che ne parliamo dimmi chi sei chi sette oh volpe volpe oggi non siamo fatti i primi dieci no veramente che hai preso io 9 e io 7 e mezzo ah perché è buono quando ti mettono quei voti è perché non ti vogliono offendere ma in realtà gli fai cacare ciao raga ciao rosy sta baccaina madonna beata ma che c***o vuoi dimmi qual è il problema cos'è che faccio piango non posso tre anni tre anni che ci stavo assieme e mi ha lasciato per una sporca p***a mi fanno domande rispondo non mi invento niente ce la diamo un'anestesia aschi no pitbull amo sei bellissima no dai non è vero no dico davvero sei fantastica no dai non esagerare ho detto che sei strafica sei strafica hai capito è tutto invidia è tutto invidia sei vergine no capricorna secondo me eri vergine no non piangere dai è tutto invidia è tutto invidia non devi stare a sentire a quelli è tutto invidia dai dai io sono l'utente buono e ora ti consolo io dai vieni qui ti puoi mettere una foto a pecora? ma mi scrivo ad ask giusto per provare se vediamo le domandine che mi fanno sto giuccio vecchione a 23 anni ancora su ask se la potete usare di tutti i mostri proprio voti da una 10 suicidete ci possiamo conoscere tuo padre è morto sfigata non è colpa mia se mio padre è morto quando ero piccola e ho cercato di superire la mancanza di un genitore con i like e le mie foto guarda come mi ridotta hai visto? è tutto invidia è tutto invidia madonna beata ripasso ci devi menare un dale oh il bello da là dimmi qual è il problema cos'è che faccio? piango? non posso? mi fanno domande? rispondo no no non mi inventa niente martendo io copri lì di adio cane ma che è un collo scusate quando passa? ma che si io prima avevo usato il tiro davvero? lascia stare lì oh 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 Grazie a tutti.